I costi eccessivi di politica e burocrazia sono da tempo noti. La riduzione di tali costi ha un significato non solo economico di riduzione della spesa pubblica, ma anche sociale e morale, di abbattimento di ingiustificati privilegi e di ripristino di una vera parità fra governanti e governati. La politica è un bene comune, che non può essere lasciato solo nelle mani dei miliardari o dei padroni dei mezzi di comunicazione di massa. Bisogna lasciare ai cittadini la scelta se finanziare o no i partiti e i movimenti politici. Superando quindi il rimborso e prevedendo un sistema di piccole contribuzioni private di carattere liberale e volontario, assistite da parziali detrazioni fiscali. Occorre disciplinare in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione i principi di democrazia interna di partiti e movimenti politici, prevedendo un'onere di adozione di atti costitutivi e statuti rispettosi di tali principi. Quale condizione per l'accesso alle competizioni elettorali, alle campagne referendarie, ai finanziamenti pubblici e privati e agli altri benefici pubblici previsti dalle leggi vigenti. In più, 945 parlamentari sono troppi. Il PD si impegna a ridurli in modo da passare da 630 a 300 deputati e da 315 a 150 senatori. Il senato diverrebbe senato delle regioni e delle autonomie locali. I senatori sarebbero eletti contestualmente alle elezioni dei consigli regionali, decadendo in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale della loro regione. Lo stipendio dei parlamentari va diminuito e deve essere equiparato a quello di un sindaco di un capoluogo di provincia. Per il PD le province vanno abolite dalla Costituzione. I comuni vanno ridotti. Oggi in Italia ci sono 8.092 comuni, di cui oltre 3.000 con meno di 5.000 abitanti. Sono troppi. Ogni tentativo fatto con legge ordinaria per incentivare la fusione dei comuni è sinora fallito. Per questo si può inserire in Costituzione un procedimento imperativo per la fusione o incorporazione dei comuni minori. Le indennità dei dirigenti pubblici e delle società pubbliche, con l'esclusione delle società quotate in borsa, vanno diminuite. Per questo bisogna prevedere un tetto massimo dei trattamenti economici erogati da pubbliche amministrazioni.